Siamo nel backstage del The Game, nella zona bar, perché qui al Poker Room del Casino Perla c'è anche il bar che è un po' la zona ricettacolo di tutte le lamentele dei giocatori che vengono scoppiati, eliminati, delusi e abbiamo il duo di Poker Clano, Taviano Cappellini e Giorgio Caligari Buongiorno a tutti e due, buongiorno a tutti La domanda che risorge spontanea Giorgio è cosa ci fate qua? Siamo venuti a bere per dimenticare, anche se sono a Stemio, però capita così ogni tanto Eliminati dal primo side, però naturalmente il piatto forte di questo weekend a Nova Gorezza sarà il main Ottaviano Sì, siamo venuti per quello, però giustamente scaldiamo i motori con questi primi tornei che ci sono Molto bello, fra l'altro un 6 max che ci piace tanto, è un bel torneo, una bella formula insomma Parlando invece di Poker Clan, come stanno andando le cose? Siamo in netta crescita, ogni mese facciamo un piccolo passettino in avanti, quindi non abbiamo neanche fretta Proseguono le lezioni Ottaviano? Le lezioni sono ogni settimana, lezione gratuita, cambia il giorno durante la settimana e anche l'orario Per dar modo un po' a tutti, chi magari ha possibilità al pomeriggio, piuttosto che alla sera, piuttosto che anche alla mattina Di seguire una lezione, noi facciamo lezioni per tutti i livelli e per tutte le discipline Dall'omaca, all'MTT, al cash game che è un po' il pane del giocatore online, un po' tutto Qual è la disciplina che sta riscuotendo un maggior successo nelle vostre lezioni ultimamente? Diciamo che la parte del leone la fa sempre il cash game Adesso sta prendendo piede anche l'omaca perché comunque anche dal vivo, come tu vedi, su dieci tornei Texas ci sono uno di omaca Quindi non puoi fare altrimenti E stiamo sviluppando anche molto la parte del MTT che comunque dal punto di vista online ci sono pochissime scuole Quasi nessuna che fanno corsi MTT e la maggior parte della gente si improvvisa a MTT Dacci un po' di numeri allora della vostra crescita C'eravamo lasciati pochi giorni fa praticamente a campione a fianco a una pianta al Lipo Perché ti avevo detto, insomma, è nato qua a Poker Clan e sta crescendo Quali sono i numeri della crescita? Continua a crescere, giorno dopo giorno qualche utente si unisce Soprattutto per la nostra attività in questi tornei live Siamo qua a questo The Game, anche ai Lobain, proprio per allargare il più possibile il nostro pubblico Un po' a tutti i livelli di giocatori di poker Prossimi appuntamenti ai quali parteciperà a Poker Clan, Giorgio? Beh, i prossimi appuntamenti non li abbiamo ancora stabiliti di quest'anno sinceramente Sicuramente il The Game lo rifaremo Stiamo valutando se partecipare alle ISOP Io ho vinto il ticket per l'IPT quindi non me lo fanno fare adesso a Sanremo Probabilmente vado a San Benzano, lo so, adesso vediamo Va bene, allora in bocca al lupo per il gioco e naturalmente per Poker Clan soprattutto Ok, ciao a tutti